Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi In questo nuovo video vi spiego come trovare questo pozzo gravitazionale Dirigetevi qui all'accademia, alla chiesa del cuculo Scendete da questa parte verso sinistra, sempre più giù Fino ad arrivare a un ponte ed entrare così in un edificio Mi raccomando fate attenzione a questi scheletri che vi acciuffano, vi prendono E poi vi tolgono quasi la metà della vita, ok? Quindi fate attenzione anche ai seguchi Che stanno mangiando la loro merda, scusate per la parola, ma la loro merda veramente Quindi dirigetevi da questa parte, voi non dovete fare altro che ammazzare un guerriero Con una spada E così facendo vi tropperà così il pozzo gravitazionale E avete fatto, ok? Molto semplice Eccolo che sta per uscire, mannaggia questi cani Ok Eccolo che è uscito dal suo nito Ora non mi resta che affrontarlo Ammazzarlo Tanto a me non tropperà l'incantesimo perché ce l'ho già L'ho avuto due fasi fa E voilà E vi tropperà così l'incantesimo Quindi ragazzi io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo Bell'incantesimo eh E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao Ciao